Tragedia nella notte fra sabato e domenica in Largo Annibale e Sterzi in pieno centro di Salerno. Un diciottenne di Battipaglia, Antonio De Sarlo, ha perso la vita a seguito di un incidente in moto la cui dinamica non è stata ancora chiarita. Il giovane era in compagnia di un amico, un ventenne di Salerno ferito in maniera non grave, quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il marciapiede. Un impatto violentissimo che ha reso vani i soccorsi della misericordia della Croce Bianca, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del diciottenne. Antonio De Sarlo, studente del liceo Regina Margherita di Salerno, era un appassionato di motori, settore nel quale aveva mosso i primi passi dall'età di 11 anni e che lo aveva visto primeggiare in numerose gare regionali, nazionali ed internazionali. A Battipaglia in tantissimi hanno fatto pervenire le condoglianze alla famiglia, impegnata da decenni nell'imprenditoria, nel settore dei trasporti e della logistica. Cordoglio anche da parte della Salernitana, che si è stretta attorno al dolore che ha colpito il capitano della primavera Pasquale De Sarlo per la scomparsa del caro fratello Antonio.